I rincari delle bollette energetiche, la guerra, la difficoltà nel reperire materie prime e semilavorati, anche per gli artigiani padovani il 2022 rimane in salita e i guai non vengono mai da soli. Questa incertezza che c'è da parte dei politici che non si mettono d'accordo e che quindi non cercano di fare del bene agli italiani, perché loro sono lì perché sono stati eletti da noi precedentemente e devono pensare al nostro benessere, ma se non si mettono d'accordo, se non fanno delle coalizioni, noi ci sentiamo veramente persi, non abbiamo nessuna sicurezza che riescano a governare in maniera buona e produttiva. Veramente noi siamo molto preoccupati di questa cosa. Il futuro governo, di qualsiasi colore, dovrebbe intervenire subito, dicono gli artigiani, per incoraggiare l'autoproduzione di energia, per esempio dal sole, utilizzando i capannoni. Da degli studi che abbiamo fatto appunto, è risultato che se noi mettessimo gli impianti fotovoltaici in tutti i tetti dei capannoni, sia quelli attivi che quelli in disuso, riusciremo a produrre circa l'85% dell'energia che serve a tutti per, a tutti, quindi è una grande quantità di energia autoprodotta. Al momento però, Susanna Zorzi, non ci sono esattamente degli incentivi per installare un impianto fotovoltaico, che so, domestico o industriale, giusto? Allora, con la risoluzione 34E di giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate aveva aperto la possibilità anche a tutti gli imprenditori che avevano la volontà di sistemare con l'eco bonus, il sisma bonus, i loro capannoni, di usufruire di questi incentivi. Grazie.